Siamo alla paralisi istituzionale, colpa di una coalizione che era elettorale non politica e le conseguenze si sono viste, come al solito l'eterna Sicilia dei mandarini e dei loro interessi particolari che bloccano lo sviluppo. L'orferma Rosario Crocette, ex durante la regione, che parla a ruota libera su un quotidiano regionale. Tutto ciò di cui ho parlato si riferisce a iniziative del mio governo, dice Crocette, come il fondo di rotazione, l'ultima delibera della mia giunta. Avevamo bisogno di circa sei mesi per avviare il primo grande progetto per il reddito di inclusione e sbloccare una serie di gari che possono ancora avere un effetto immediato, favorendo la crescita del PIL. Ma la cosa più grave, rimarca Crocette, è oggi la totale paralisi dell'Assemblea regionale. Per quanto riguarda la precedente legislatura, nel mio caso c'era un problema che poteva avere una giustificazione perché non avevo mai avuto una maggioranza. In questo caso di prefigure invece una crisi politica, ma sarà sempre così perché l'eterna Sicilia dei mandarini e ci saranno sempre deputati eletti che faranno i propri interessi. Per quanto riguarda il suo futuro, Crocette annuncia di voler riorganizzare il megafono. Credo, dice che ci sia bisogno di un movimento che rompa gli schemi del centro-sinistra ed eviti una deriva moderata del PD. Gli effetti li abbiamo visti alle politiche, dove l'unico deputateletto di sinistra è stato Fausto Ragiti.